Eccoci qua, siamo fuori dal locale 21 Grammi a Brescia, eccoci qua con lo staff, tu sei? Sono Gabriele Pesca, tu sei? Io sono Andrea Dostacassi Abbiamo lo chef, eccolo là, ciao Andrea e la Giusi Ciao a tutti Ciao a tutti, cosa facciamo il 28 di settembre? Il 28 di settembre facciamo la notte dei risotti La notte dei risotti, devono venire tutti? Il 28 di settembre facciamo la notte dei risotti e vi aspettiamo numerosi Bravissimo, bravissimo, Giusi? Mi raccomando, riservate il vostro tavolo, sarà una serata speciale in cui ci incontreremo per gustare un menù speciale, specialissimo e poi per stare insieme Chi ci offre i risotti, i risi e i formaggi? Riso Gallo sarà in nostra compagnia, così come l'azienda agricola Carioni Carioni, benissimo, chef? Vi aspettiamo Davvero, chef, cosa ci fai di buono dei risotti? Venite ad assaggiarli Benissimo, il numero di telefono lo mettiamo in calce al video Vi aspettiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti